Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di J-News. Apriamo con la cronaca. Si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di San Vincenzo di Pozza di Acquasanta Terme i funerali di Alessandro Pedicelli, il 21enne deciduto a seguito dell'incidente stradale avvenuto nella notte di giovedì scorso lungo la salaria. Prima che nella giornata di ieri si predisponesse la restituzione della salma ai suoi familiari sul corpo senza vita del giovane era stato effettuato l'esame autoptico per cercare di chiarire le cause della morte. A seguito dello scontro dell'automobile contro il pilone del cavalcavia sulla salaria Alessandro aveva riportato numerosi traumi e per tre giorni è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mazzoni di Asculi Piceno in stato di coma. Purtroppo anche i tentativi dei medici del nosocomio a Scolano che avevano deciso di intervenire chirurgicamente per cercare di migliorare il quadro clinico del giovane si sono rivelati vani. Il cuore del 21enne ha cessato di battere lasciando nello sconforto i suoi familiari. Stamane intorno alle 10 un anziano di San Benedetto del Tronto mentre stava effettuando alcune riparazioni domestiche in via Santa Maria Goretti è caduto dalla scala battendo la testa. L'anziano ha perso conoscenza e dopo il trasporto all'ospedale Madonna del Soccorso i medici hanno deciso di trasferirlo in elie ambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono ritenute gravi. Era conosciuto all'erario quale odontotecnico ma come accertato dalla Guardia di Finanza di Ascoli Piceno svolgeva parallelamente anche l'attività di dentista esercitata tuttavia in assenza di ogni requisito imposto dalle vigenti leggi primo fra tutti il conseguimento della laurea in odontoiatria. Un vero e proprio falso dentista, quello incappato nelle attenzioni investigative delle fiamme gialle che lo hanno individuato inseguendo le voci relative a prestazioni professionali praticate da un dentista locale a prezzi alquanto convenienti, facile appannaggio nei tempi di attuale crisi economica. Il dentista non era però conosciuto come tale alla Guardia di Finanza che è riuscita in poco tempo a scoprire che in realtà presso l'individuato comprensorio non esisteva alcuno studio dentistico circoscrivendo quindi il contesto di indagine nei confronti di uno odontotecnico il cui laboratorio interessato alle canoniche attività di osservazione è nel frattempo risultato frequentato in maniera tipica da un discreto numero di persone. E rimaniamo ad Ascoli, se nei prossimi giorni le condizioni meteo continueranno ad essere stabili come la scorsa settimana si procederà ad effettuare un nuovo tentativo di ricerca del corpo della badante polacca Maria investita da un'auto lungo il ponte di San Filippo il primo dicembre dello scorso anno di cui si è persa ogni traccia lungo il fiume Tronto dove si ipotizza possa trovarsi imprigionato sotto un cumulo di detriti che la piena ha trasportato dalla montagna a valle. La preoccupazione maggiore è rappresentata dal fatto che la forte piena del fiume di quei giorni abbia potuto trasportare il corpo alla foce e che sia finito in mare. In quel tratto di mare sono attive infatti due correnti, una che spinge verso sud mentre un tratto di mare a largo spinge verso nord. Per questo motivo sono state allertate le capitanerie di Porto dislocate lungo il tratto di mare Venezia-Baria. A tutt'oggi però le ricerche non hanno sortito alcun esito. inseguiti sulla 24 per oltre 40 km sono stati arrestati e dovranno ora rispondere di rapina aggravata. Una banda di rapinatori composti da AM di 23 anni, AK di 24, entrambi algerini e TF uno spagnolo di 27 anni sono stati fermati ieri dagli agenti della polizia stradale di Avezzano. I poliziotti coordinati dal comandante Orante Pisotta si sono lanciati nell'inseguimento della BMW dove viaggiava la banda fuggita dopo aver compiuto una rapina ad Osimo ad Ancona. I malviventi si erano dati alla fuga dopo aver malmenato il proprietario di un negozio di riparazione e vendita telefonini. Uno di loro è stato arrestato nelle Marche dai Carabinieri mentre gli altri tre sono stati raggiunti dalla polizia nei pressi di Carsoli. Gli agenti sono riusciti a recuperare 270 telefonini. Ai ladri è stato sequestrato anche un coltello utilizzato per la rapina. E' concitata rapina la banca Tercas in Viale Bozzi in centro a Porto San Giorgio. Tre uomini sono entrati all'interno dell'istituto di credito e sotto la minaccia di usare una pistola hanno intimato il cassiere di consegnare i soldi. Sono stati momenti di alta tensione all'interno della filiale di Porto San Giorgio dell'istituto di credito dove erano presenti anche alcuni clienti. I ladri sono fuggiti dalla banca con un sacchetto pieno di denaro ma dentro c'era la trappola che stava per scattare. Infatti appena arrivati poco fuori dalla banca è esplosa la mazzetta civetta che in una grossa nuvola di vernice indelebile ha imbrettato ogni cosa, malviventi e soldi compresi. Si tratta della classica mazzetta di denaro avvolta in una fascetta difficile da riconoscere che contiene dell'inghiostro indelebile e una piccola parte di esplosivo. A innescarla poi un timer oppure un telecomando. Colpo dunque andato a vuoto con i tre malviventi costretti ad una brusca ritirata. Ed ora cambiamo argomento e andiamo a San Benedetto. Arrivano dal coordinatore provinciale di Forza Italia nonché consigliere comunale Andrea Assenti forti critiche per la gestione amministrativa del sindaco Giovanni Gaspari. Secondo Assenti troppi proclami e tanti errori certificati. Per ultimo quello della bocciatura del TAR rispetto alla questione della pompa di benzina. Vediamo il servizio di Massimo Falcioni. Tante promesse e nessuna mantenuta. Il PDL boccia i tre anni di mandato dell'amministrazione Gaspari e promette di non commettere lo stesso errore in caso di prossime elezioni. Oggi vogliamo proprio lamentare i cittadini stando toccando con mano in questi giorni l'incapacità politica amministrativa di questa amministrazione. Quindi ha dovuto, pensava di fare un'invenzione, un favore al comune con il discorso del Limo. Invece oggi si trovano i cittadini a pagare, a dover pagare un ulteriore incremento. Cosa che invece non andava assolutamente fatta. Quindi tutti questi accordi dell'ultima ora, dell'ultimo secondo, li vediamo come una incapacità ulteriore politica amministrativa dell'amministrazione Gaspari. Lungomare, piscina, cose che si promettono da tanti anni che vengono riproposte. Ma ormai no, questo modo di fare politica che ormai è obsoleto, siamo stufi, desiderate, libri dei sogni, ormai non servono più a nessuno. Non si può fare un programma di mandato come veramente il libro dei sogni, con 50.000 progetti e non se ne fa nemmeno uno. Allora, io penso che qui già passiamo oltre, passiamo oltre a questo Gaspari 2. Quindi il futuro candidato sindaco, e soprattutto lo dico al nostro candidato sindaco, dovrà avere un'idea ben chiara, pochi progetti, poche parole, tanti fatti. Riuscirete a non ricommettere l'errore di tre anni fa, quando potevate magari tentare di vincere, ma spaccature interne ve l'hanno impedito? Siamo fiduciosi, siamo fiduciosi. Penso che, insomma, dagli errori, gli errori servono per imparare, no? Quindi se servono per imparare, siamo fiduciosi. Ultima cosa, il Tar si è espresso, ha deciso che la prima delibera, quella famosa che causò la spaccatura tra i mili e l'amministrazione, sulla pompa di benzina low cost, era, diciamo, illegale. Un anno dopo, cosa si sente di dire? Quella è una delibera che, voglio dire, quanto una proposizione di un ricorso al Tar nasce da una costola del PD, o meglio, da una costola, da una parte importante del PD, quindi qualcosa covava sotto, quindi qualcosa c'era. Questo noi lascia ben sperare per il futuro, perché vuol dire che, insomma, lì dentro casa del PD ci sono molti problemi, che non riguardano solo la pompa del low cost, ma riguardano, diciamo, l'ossatura di tutti i progetti che hanno presentato per anni. Quindi penso che cosa lascia presagire? Penso tanti problemi per loro. Torniamo alla cronaca. La Digos di Teramo ha denunciato una quindicina di persone per danneggiamento ed occupazione di edificio. Si tratta dei giovani che da sabato protestano contro il comune di Teramo, proprietario dei locali ex OVS di Corso San Giorgio, sollecitando l'assegnazione dei locali commerciali alla cultura e all'arte. Il braccio di ferro fra i manifestanti ed il sindaco Maurizio Brucchi è ancora in atto. La denuncia è scattata dopo il rapporto della polizia che aveva accertato l'ingresso non autorizzato nel locale attraverso l'apertura forzata dell'ingresso posteriore. E il corpo forestale di Arsita nel Teramano ha sequestrato bocconi avvelenati nei pressi di un terreno agricolo in località piene di Appignano, nel comune di Castiglione, Messerremondo, a ridosso del fiume Fino. Le esche in numero significativo sono state ritrovate insieme ad un involucro in plastica nel quale probabilmente erano contenute. Il materiale rinvenuto sul posto è stato portato all'Istituto Zooprofilattico di Teramo per essere analizzato. Sono in corso indagini finalizzate alla ricerca degli autori a raccogliere ogni altro elemento utile alla ricostruzione dei fatti. L'impiego di cani appositamente addestrati per la ricerca di bocconi avvelenati e sostanze tossiche ha consentito di perlustrare con rapidità le zone interessate e ritrovare tempestivamente le esche nocive scongiurando ogni ulteriore pericolo. E botte da orbi ieri mattina tra due ragazzi di colore che vivono nell'ex casa cantoniere di Centobuchia, Monte Prandone. Un alterco iniziato all'interno della casa è finito in mezzo alla strada, particolarmente trafficata in quel momento. Le urla hanno richiamato diversi curiosi. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri della locale stazione ha evitato che la cosa degenerasse e avesse conseguenze più gravi. Il rischio di finire sotto un'auto di passaggio infatti era veramente elevato. E i carabinieri della stazione di Notaresco nel Teramano hanno denunciato un 19enne residente a Morrodoro per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti in una tasca di pantaloni. Aveva infatti una dose di marijuana nella sua camera da letto, aveva poi un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. E i carabinieri della stazione di Silvi Marina la notte scorsa hanno tratto in arresto Massimo Mannino, 28enne siciliano disoccupato in quanto resosi responsabile del reato di tentato furto aggravato. La pattuglia del comando carabinieri di Silvi in servizio notturno al fine di prevenire e contrastare il dilagante fenomeno dei furti che nell'ultimo periodo è in evidente aumento nel transitare dinanzi all'istituto professionale di Stato Zoli in via San Giovanni Falcone di Silvi Marina ha notato la presenza di un uomo intento a forzare la porta d'ingresso mediante l'utilizzo di un oggetto in ferro. I militari arrestati alla macchina sono intervenuti bloccando il Mannino proprio mentre varcava la soglia della scuola. In considerazione di quanto accaduto il giovane è stato ammanettato e tratto in arresto. Nell'occasione è stato sequestrato in un piede di porco e poi in seguito due giraviti. I carabinieri della stazione di Pineto sempre nel fine settimana hanno denunciato in Stato di libertà all'autorità giudiziaria un 44enne originario di Milano residente a Silvi Marina già gravato da precedenti penali per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato fermato e controllato nel centro abitato di Pineto mentre viaggiava a bordo della propria autovettura. A seguito di un'ispezione veicolare è stato trovato in possesso di uno sfollaggente in legno della lunghezza di 45 centimetri del quale non ha saputo dare contezza circa provenienza e possesso. E cambiamo argomento. Bagno di folla per la cerimonia di insediamento del nuovo vescovo della diocesi di San Benedetto Ripatranzone Montalto Monsignor Carlo Bresciani. Anche presenti tanti sindaci marchigiani e abruzzesi. Vediamo il servizio. Bagno di folla per l'insediamento del nuovo vescovo della diocesi di San Benedetto Ripatranzone Montalto Monsignor Carlo Bresciani. In tanti hanno risposto all'evento da autorità civili, politiche, militari e religiosi ma anche tanti fedeli che con la loro presenza hanno garantito calore e partecipazione ad un momento molto atteso. Il viaggio del vescovo è partito da Cupramaritti ma dove era atteso già nel primo pomeriggio ma a partire dalle 13.30 la chiesa di San Basso iniziava ad accogliere i primi ospiti incuriositi ed emozionati. Ad aspettarlo fedeli, cittadini, bambini, anziani e soprattutto l'unità alzi con i suoi malati. Il sindaco Domenico D'Annibale ha salutato per primo Monsignor Bresciani. Successivamente è stata la volta di Monsignor Romualdo Scarponi. Benvenuto a casa nostra, ha detto Scarponi, che da ora in poi potrà chiamare casa sua. La ringraziamo di aver lasciato la sua amata Brescia per venire da noi. Sarà una preziosa guida. Anche Sabatino, presidente dell'unità alzi di San Benedetto del Tronto, ha portato i suoi saluti. La invitiamo ad unirsi a noi nel prossimo viaggio a Lourdes, ha detto. A rappresentanza dei malati ha parlato Carlo, un non vedente, che ha ringraziato il Vescovo a nome di tutti. Semplici ma chiare le parole di Bresciani. Ho chiesto che il primo incontro fosse con i malati, con la fragilità, perché dobbiamo superare quello che Papa Francesco chiama la cultura dello scarto. La nostra dignità umana è quella di essere tutti figli di Dio. Cari malati, conto su di voi sulle vostre preghiere. Vi benedico con tutto il mio cuore. Il Vescovo ha poi ricevuto dei doni, un catino a simboleggiare la lavanda dei piedi, un passo tanto caro al nostro nuovo Vescovo, un libro che hanno scritto alcuni malati dell'unità alzi di Portodascoli, un quadro che riproduce il trittico del Crivelli, il biglietto per il treno per il prossimo viaggio all'urde dell'unità alzi, un mazzo di fiori da parte dei bambini di Cupra. Poi il Vescovo si è spostato a San Benedetto, primo incontro affollatissimo al mercato ittico, nella sala dell'asta del pesce, un luogo di lavoro concreto e significativo per il territorio diocesano. Poi il saluto del sindaco Gasperi e del capitano Sergio Lopresti della Capetineria di Porto. Hanno preso poi la parola alcuni lavoratori, il marinaio Umberto Cosignani, il migrante Carlos Alberto da Silva e una lavoratrice in difficoltà della Roland, a nome di tutte le realtà in crisi della zona. Dopo la lettura della lettera apostolica c'è stato il passaggio del pastorale del Vescovo Emerito al Vescovo Carlo. Questo è il segno dell'insegnamento di Monsignor Carlo Bresciani come Vescovo della Diocesi, con l'omaggio personale di tutti i sacerdoti presenti. Massimo Del Moro sostituisce Giovanni Stroppa alla direzione dell'area vasta 5. La successione anticipata nei giorni scorsi è stata ufficializzata dalla giunta regionale quest'oggi. Stroppa è stato pertanto promosso al comando dell'area vasta 2, che copre tutto il territorio di Ancona. A Pesaro, area vasta 1, va invece Maria Capalbio, mentre Pierluigi Gigliucci e Alberto Carelli saranno responsabili rispettivamente dell'area vasta 3, macerata, e dell'area vasta 4, fermo. Le scelte, ha evidenziato il direttore dell'Asur Marche, Gianni Genga, sono state fatte sulla base della necessità di garantire la continuità dell'azione positiva già intrapresa e di avere quindi come punto di riferimento professionisti che hanno contribuito ai risultati raggiunti ed hanno maturato una positiva esperienza nei territori delle aree vaste per le quali sono stati proposti. Commercianti neretesi lanciano la protesta anti-tares e al piano traffico. Noi la tares non la paghiamo e questa è la protesta dell'associazione commercianti neretesi guidata da Antonio Colletta e associata alla Confcommercio. Gli aumenti rispetto alla Tarsu, spiega Colletta, superano il 300%. Prendiamo ad esempio la mia attività, una bireria, prima pagavo 378 euro di Tarsu, con il passaggio alla Tarsu siamo arrivati a ben 1573 euro. Lo stesso vale per i titolari di bar, per i fiorai, per l'ortofrutta, per le pizzerie e per i ristoranti. Abbiamo chiesto nel mese di novembre al Comune di tornare alla Tarsu ma non ci hanno neanche risposto. Il Comune ha invece deciso di non far pagare la minimo trovando tra le pieghe del bilancio i fondi per coprire le somme necessarie. Si tratta, aggiunge Colletta, non più di 20 euro a famiglia, che non credo facciano la differenza. Se invece questi soldi fossero stati utilizzati per le attività commerciali, che non sono poi così tante a Nereto, gli importi della Tars per noi sarebbero stati dimezzati, rappresentando per noi un aiuto concreto. La protesta anti-Tares dei commercianti di Nereto si basa non solo sugli importi stellari della nuova tariffa, ma anche sull'annoso problema della viabilità. Di fatto, conclude Colletta, nella nota ci impediscono di lavorare, perché hanno reso impossibile entrare nel centro del paese. A Nereto non si entra più. Addirittura hanno chiuso anche una parte della rotonda, che si trova nei pressi del cimitero, convogliando tutto il traffico fuori dal paese. E rimaniamo a Nereto, perché non sono ancora sciolti i dubbi e interrogativi in merito al pagamento della Minimu. Il sindaco, nonostante la recente nota dell'ufficio Tributi, continua a ribedire che l'indirizzo dell'amministrazione è proprio quello di non pagare. Vediamo il servizio. Sindaco Minora, un piccolo giallo sulla questione della Minimu a Nereto, si deve pagare o non si deve pagare? Allora, è un mini giallo davvero. Allora, il discorso è questo. Noi abbiamo approvato con una delibera che oggi è stata pubblicata, numero 58, il non pagamento della cosiddetta Minimu. Abbiamo fatto un atto di indirizzo per non pagare questa Minimu. Tutti coloro che erano presenti in Consiglio Comunale, compreso il PD, che poi oggi dice che forse è meglio pagare o meno, che fra l'altro loro si sono astenuti, quindi neanche hanno votato a favore, dicono che bisogna pagarla per svariati motivi, secondo loro. Allora io dico questo, che loro sapevano benissimo che occorreva un altro atto, questo era un atto propedeutico, occorrerà un altro atto di bilancio per ricoprire i soldi che verranno a mancare e che verrà fatto col bilancio, ovviamente. Comunque io volevo tranquillizzare tutti, perché noi abbiamo dato queste indicazioni di non pagare. A me se non concesso, che non accadrà nulla, perché non si potrà ricoprire col bilancio, ma io lo escludo perché il bilancio lo facciamo noi, non è che lo fa qualcun altro. Allora, tranquillizzo tutti i cittadini che magari hanno il timore di dover pagare dei sovrapprezzi, delle tasse superiori, eccetera, perché non si pagherà assolutamente niente. Io ritengo di poter fare una cosa del genere, sono soldi che entrano in un bilancio comunale, quindi un'amministrazione può decidere questo e quant'altro. In ogni caso abbiamo fatto un quesito anche al Ministero delle Finanze, per cui ci risponderanno, ma noi dobbiamo completare questo atto, che non poteva essere completato oggi per il semplice motivo che il bilancio verrà approvato più avanti, insomma, ecco, tutto qui. L'Ufficio Tributi che dice che consiglia di pagare la mini-IMU, dopo che in realtà lei aveva chiarato il contrario. Non mi pare che possa consigliare una cosa del genere, probabilmente ha detto che oggi ancora, non quello che sto dicendo io, forse avrà detto che oggi ancora non sono definite le pratiche, quindi per loro ad oggi ancora non è stato completato l'iter, diciamo così, ma l'indirizzo dell'amministrazione è quello e faremo gli altri atti, oltre questo propedeutico, per non farla pagare, questa benedetta mini-IMU. Ma vedremo come andrà a finire. Nel frattempo i santeggidiesi non dovranno pagare la mini-IMU. L'imposta sulla prima casa del comune di Sant'Egidio, la vibrata, non si dovrà pagare. Lo rende noto l'amministrazione comunale, che già nel luglio dello scorso anno, sulla base dei propri regolamenti ed esigenze finanziarie, ha deliberato di riconfermare, come per il 2012, la liquota sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale al 3,80 per mille, bene al di sotto della liquota base del 4 per mille prevista dalla legge. Uno dei pochi comuni in Italia a rimanere addirittura sotto la soglia suggerita a differenza di altri 2.300, che hanno apportato aumenti alle proprie aliquote sulla prima casa. L'amministrazione comunale, spiega il primo cittadino, Rando Angelini, ha inteso salvaguardare i propri cittadini da ulteriori aggravi di tasse e spese, soprattutto in questo particolare momento di crisi e recessione economica. Negli ultimi anni abbiamo assistito in Abruzzo ad uno svilimento della cooperazione sociale, fondi regionali per gli investimenti azzerati, enti locali che riducono le risorse per i servizi sociali ed assistenziali. Leggi mai attuate. A parlare è la presidente di Feder Solidarietà Abruzzo, che denuncia un atteggiamento di indifferenza nei confronti dell'imprenditoria sociale e locale da parte della politica. Nello stesso tempo, si legge in una nota, assistiamo ad un vento nuovo che soffia dall'Europa dopo che in questi giorni si è svolto l'evento Imprenditori Sociali, dite la vostra, dove si è riconosciuto il ruolo dell'imprenditoria sociale per il benessere della comunità e in particolare dei più deboli, dove la cooperazione sociale italiana è stata riconosciuta come modello imprenditoriale innovativo, guardato come esempio per lo sviluppo delle imprese sociali europee. La riflessione sulla situazione critica che le cooperative sociali vivono in questo momento in Abruzzo, motivata non solo dalla crisi economica, ma anche dall'assenza di un disegno politico di promozione del settore e la riflessione sui segnali incoraggianti che vengono dall'Europa, hanno spinto Teodora Di Santo, presidente del Consorzio di Solidarietà Console e presidente appunto di Feder Solidarietà Abruzzo, associazione di rappresentanza del settore cooperativo, a scrivere al mondo politico abruzzese. invitando ad un dialogo per il rilancio del settore. E torniamo a San Benedetto. Lo scenario politico infatti si arricchisce di un nuovo gruppo, il nuovo centrodestra che a livello nazionale si affida ad Angelino Alfano dopo la divisione da Silvio Berlusconi. In città invece Carmine Chiodi, vecchia conoscenza del centro-sinistra. la sanbenedettese ad affiancarsi a livello provinciale a Claudio Travanti. Vediamo il servizio di Massimo Falcioni. Dopo la frattura a livello nazionale nasce anche a San Benedetto il nuovo centrodestra. A capo in riviera troviamo Carmine Chiodi, un passato nel centro-sinistra, ma oggi intenzionato a ridare slancio al centro-destra. Diamo vita al nuovo centrodestra San Benedetto per cui è un momento importante. Andiamo ad occupare uno spazio che ci compete. Gli obiettivi che vogliamo riportare sul territorio sanbenedettese sono quelli che comunque ci derivano da un'impostazione nazionale. Cioè noi un rinnovamento della politica, un rinnovamento comunque anche dei quadri dirigenti per cui far ritornare al centro del discorso fortemente la famiglia, il lavoro, l'occupazione giovanile. Noi ci collochiamo in un'area di centrodestra moderata. Non vogliamo essere assolutamente populisti, bandiamo ogni ragionamento di questo tipo per cui oggi iniziamo il nostro percorso locale. Il centro ha sempre avuto un ruolo ambiguo a San Benedetto. stampella per due volte di Gaspari come sindaco. Voi come vi ponete? Noi, ripeto, noi siamo una forza di centrodestra moderata. Oggi andare ad ipotecare il futuro diventa un po' difficile. Certamente se si dovesse votare oggi, ad esempio, noi avremmo sicuramente la possibilità di esprimere un nostro candidato perché abbiamo sicuramente la forza per fare questo. Comunque siamo aperti a ragionamenti con la coalizione eventuale di centrodestra ma fermo restando che chiederemo di indire le primarie per poi definire chi è il candidato eventuale. Questo è fuori dubbio. Cambiamo sponda politica e andiamo ad Ascoli Piceno. L'Assemblea dell'Unione Comunale del Partito Democratico ha approvato l'unanimità a un cronoprogramma definito grazie al quale viene ufficialmente avviato il percorso elettorale. In un contesto di forte partecipazione, si legge in una nota, si è articolato un dibattito vivace e costruttivo a partire da alcune proposte del direttivo con interventi sentiti e puntuali in merito a candidature, appuntamenti e linee guida programmatiche. A conclusione dell'incontro si è pertanto deciso di dare il via alla presentazione delle candidature il cui termine ultimo sarà sabato 1 febbraio alle ore 12. Sulla base del numero delle caratteristiche di queste candidature del quadro finalmente chiaro che emergerà e con l'apertura di un confronto trasparente tra quanti si saranno proposti verrà determinato lo step successivo. Ci sarà quindi soltanto un appuntamento per la selezione tramite primarie fissato per domenica 9 marzo a prescindere dalla tipologia delle stesse e pertanto disgiunto dalle fasi del congresso regionale del Partito Democratico. L'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Caporale fa parte del gruppo di lavoro che analizzerà i dati della mappatura della terra dei fuochi. Il ministro delle politiche agricole, alimentare e forestale il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il ministro della salute hanno firmato la direttiva per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della regione campania destinati all'agricoltura. In ottemperanza al decreto legge del 10 dicembre 2013 disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Torniamo ad Ascoli in un'era dove il concetto social la fa da padrone la fondazione Carisap attraverso il suo presidente Vincenzo Marini Marini cerca di far conoscere il social eating un progetto che attraverso la degustazione delle eccellenze gastronomiche picene dello storico caffè Meletti gestito dalla fondazione che darà una mano all'economia del territorio e incrementare gli interventi nel vitale territorio del terzo settore. Vediamo il servizio di Cristiano Pietropaolo. Il presidente della fondazione Carisap Vincenzo Marini Marini ha indetto una conferenza stampa per presentare il progetto social eating un piano che vede coinvolto lo storico caffè Meletti di Ascoli. Secondo Marini Marini le consumazioni effettuate presso i Meletti contribuiscono al sociale poiché gli utili ricavati sono utilizzati per le numerose attività del terzo settore direttamente finanziate dalla fondazione. Il caffè Meletti però è un onere per la sua comunità aggiunge Marini Marini se si fa utile è giusto proseguire con le attività dello storico locale ed è anche stesso un mezzo importante di promozione del territorio. Positive l'attività del ristorante che ha visto aumentate le presenze nel corso del 2013 e anche l'inoteca appena aperta sta dando buoni risultati. Se Ascoli vuole sopravvivere aggiunge il presidente della fondazione è doveroso puntare sul terzo settore fonte di lavoro e di promozione del territorio ma il caffè Meletti deve essere in equilibrio economico-finanziario per poter proseguire le sue storiche attività. La settimana politica al Consiglio regionale d'Abruzzo inizia domani martedì 21 gennaio alle 12 con la seduta della conferenza dei capigruppo nel corso della quale è prevista l'audizione di alcune istituzioni culturali e regionali finanziate dal FUS e dalla fondazione Edoardo Tiboni. A seguire alle 14.45 è prevista la riunione della terza commissione agricoltura per esaminare il rendiconto finanziario dell'anno 2011. Lo stesso documento finanziario sarà poi esaminato in seduta congiunta a partire dalle ore 15 dalla seconda commissione e dalla quarta commissione sulle attività produttive che analizzeranno anche il nuovo piano regolatore del porto di Punta Penna di Vasto. Mercoledì invece alle ore 11 è prevista la seduta della sesta commissione politiche europee per esaminare il rendiconto finanziario anno 2011. Il regolamento per l'organizzazione diretta di eventi e per la concessione dei contributi. E torniamo a Nereto perché la Caritas ha festeggiato i primi 15 anni di attività alla presenza del Vescovo della Diocesi di Teramo e Datri Monsignor Michele Seccia. Tante le iniziative promosse in questi anni e molteplici quelle in itirene dalla Onlus Parrocchiare. Vediamo il servizio. Sono 15 anni perché eravamo impreparati quindi abbiamo avuto bisogno di una bella guida che il parroco ci ha dato e il Vescovo con i corsi con dei locali che erano giustamente dei locali della chiesa quindi erano molto piccoli non adatti diciamo all'attività da svolgere. nel primo anno avevamo i primi anni una sessantina di famiglie che gestivamo oggi siamo arrivati mentre invece a circa 200 famiglie quindi è purtroppo dico una dura realtà perché i bisogni crescono ogni giorno sappiamo benissimo che le amministrazioni non solo quella nera etese ma tutte le amministrazioni non hanno più il sostegno da poter dare a queste famiglie e quindi chiaramente la Caritas persone che credono diciamo di dare appunto una mano a queste famiglie vengono qui noi svolgiamo giustamente abbiamo tantissime ditte che ci aiutano quindi voglio ricordarlo l'ho già detto prima appunto facendo la piccola cronistoria abbiamo la fondazione Tercas abbiamo la Italpannelli abbiamo Italo Autotrasporti abbiamo la Sassocar abbiamo i supermercati Jumbo ne abbiamo tante che ci danno appunto tutto quello che ci possono dare certamente per poter ridistribuire a queste famiglie Monsignor Michele Seccia Vescovo della Diocesi di Teramo e Atri ha ufficiato la messa stamane qui alla sede della Caritas di Nereto che compie i suoi primi 15 anni di vita Sì sono 15 anni da quando la Caritas ha cominciato a svolgere ufficialmente la sua attività e pian piano proprio registrando la molteplicità delle situazioni di emergenza ma anche direi quella povertà ordinaria allora si è rimboccata le mani e si è messa a lavorare finalmente si è resa disponibile già due anni fa questa sede che era l'antica sede della scuola materna parrocchiale per cui tutto lo stabile è proprio a favore della Caritas ecco perché qui c'è il salone per la celebrazione o per gli incontri c'è anche una cucina c'è la mensa accanto come alle attività assistenziali c'è anche un'attività di oratorio cioè di accoglienza di bambini che hanno bisogno di dopo scuola che devono imparare a socializzare proprio per la presenza di famiglie che è di altra cultura o di altre nazionalità che gravano sul territorio e devo dire che il gruppo dei laici che si è impegnato qui nell'ambito della parrocchia di San Martino di Nereto è veramente veramente ammirevole per come si sta disimpegnando per far fronte proprio a queste necessità io confido solamente oggi appunto in questa circostanza confido solamente con queste persone che hanno ascoltato e che hanno visto questa realtà perché grazie al Vesco e a Don Silvio siamo riusciti a riavere questa struttura dove erano le suore quindi abbiamo più spazio dove abbiamo anche questa volontà del Vesco costituito un oratorio parrocchiale con 54 ragazzi con delle insegnanti che volontariamente svolgono il loro lavoro tutti i giorni dalle 2 alle 6 però abbiamo bisogno di persone di persone di buona volontà che credono veramente nel poter dare una mano a bambini e a famiglie che oggi sono in difficoltà le sfumature del Monte Pulciano d'Abruzzo e la sapienza dei produttori locali aderenti alla DOCG colline terramane si mettono a disposizione degli appassionati dell'enogastronomia in un grande appuntamento in programma giovedì 23 gennaio all'enoteca comunale di Controguerra la delegazione di Teramo dell'associazione italiana sommelier ha infatti allestito una serata di degustazione che a partire dall'eventi prevede la presenza di tante autorevoli etichette espressione del territorio l'iniziativa è inserita in una serie di tappe itineranti nate con l'obiettivo di promuovere e festeggiare i dieci anni del consorzio di tutela colline terramane ed ora allo sport facciamo il punto della situazione sulla quarta giornata di ritorno del campionato di eccellenza abruzzese vediamo il servizio sulle immagini di Pieneto Francavilla terminata 3 a 0 per i padroni di casa tracciamo un consuntivo della quarta di ritorno ventunesima di campionato nell'eccellenza abruzzese torneo dominato sempre dal San Nicolò anche ieri vittorioso stavolta per 3 a 0 sul campo del River Casale ennesima partita dominata e portata a termine senza particolari patemi d'animo dalla squadra più forte del campionato ha tenuto a botta la seconda della classe Avezzano espugnando Altino 3 a 1 nella seconda metà della ripresa le due squadre restano divise da 10 punti un margine tale che appare recuperabile soltanto dalla matematica considerando che restano da giocare ancora 13 partite ha rallentato ha rallentato la marcia la terza della classe capistrello fermata 1 a 1 in casa dal Miglianico con la Torrese che ne ha approfittato tornando al successo casalingo firmato dal duo Pigliocelli Capparella per portarsi ad un sol punto dalla terza poltrona la terza vittoria esterna di giornata porta la firma della Rosetana che ha espugnato Cupello con il minimo scarto due invece gli 0 a 0 ad Alba Adriatica e a Vasto Merina che abbassano la media a 17 gol appena realizzati complessivamente con 8 formazioni su 18 che sono rimaste all'asciutto da rimarcare il ritorno alla vittoria casalinga del Montorio 88 che sarà quota 20 punti in graduatoria grazie al 2 a 0 sull'acqua e sapone vedendosi schiudere una possibilità salvezza anche senza passare per i play out cosa quasi impossibile da poter pronosticare appena un mese fa e torniamo nelle marche sold out al teatro delle energie per la premiazione della Grotta Marese dell'anno il concerto spettacolo di Edoardo Vianello si è conclusa con un successo di pubblico la quindicesima edizione della manifestazione ideata dal Lido degli Aranci allo scopo di premiare le eccellenze Grotta Marese che quest'anno ha visto l'assegnazione del riconoscimento alla figlia di Pericle Fazzini Barbara Fazzini durante la serata scandita dagli affascinanti balletti della scuola Sani e dalla comicità di Santino Caravella un premio un disegno di Rosina Bruini donato da Alessandro Ciarrocchi e da Cristiana Merli è andato anche al primo nato di Grotta Mare Davide Ragni premio anche a Daniele Gibellieri dirigente AIL fondazione Alessandro Troiani di Ascoli alla quale andranno i proventi della serata bene questa era la nostra ultima notizia noi vi ringraziamo come sempre per la cortese attenzione vi diamo appuntamento a domani con una nuova edizione di G News e vi ricordiamo che questa edizione andrà in replica alle ore 22 e 30 a tutti davvero una buona serata Grazie a tutti